buongiorno oggi è il 24 agosto e sabato e iniziamo con le carrellate sui cicli superiori e con i time frame giornalieri di s&p 500 poi dax e poi mi iniziamo come al solito con lo statunitense col mercato statunitense perché mi dà la possibilità di farti comprendere tre cose estremamente importanti o più in realtà che cosa ti raccontavo nelle precedenti puntate che tutte le volte che viene violato uno swing in questo caso quello del punto j che blocca la salita viene generato un allarme ma il metodo statistico matematico non discrezionale chiamato analisi evoluta di cui puoi avere tutte le informazioni sul sito analisi evoluta punto com funziona con tre passaggi ok il primo ovviamente è quello relativo allo swing violato ci dice attenzione potrebbe iniziare un ciclo estremamente grosso con una buona forza di ribasso il secondo però punto di controllo è legato ai volumi se non arrivano volumi e quindi candele rosse a corroborare il movimento come non detto finta e rimbalzo questo è l'esempio classico che ci dice oltretutto che da qui sopra con 28 barre al massimo inizia un semestrale un verso ma non un annuale inverso a meno che e qui parliamo di altre informazioni interessanti a meno che allora prima di tutto siamo arrivati già oltre le 24 barre 24 giorni di ciclo mensile inverso e quindi sul top assoluto che abbiamo fatto a 5.643 punti e abbiamo generato una condizione di chiusura di questo movimento con una possibile poi partenza di un nuovo movimento questa volta appunto discensivo attenzione condizione sufficiente non definitiva per una discesa ok questo significa che cosa che se andremo in violazione di questo massimo avremo o una continuazione del nostro terzo settimana all'inverso che è arrivato a 8 più 2 giorni quindi a 10 giorni su massimo eventualmente 11 con spike e chiuso questo movimento parterà un nuovo movimento di discesa ok se invece non andremo in violazione potremmo finalmente avere quella discesa che si poteva avere già quando quando l'avevo terrorizzata perché qui eravamo arrivati a 11 giorni massima durata di un settimanale inverso dopo il quale si poteva scendere ma che cosa hanno fatto per segare le gambe a chi voleva anticipare uno short hanno fatto nascere qui di soppiatto senza uno swing violato un nuovo settimanale inverso che puoi andare tranquillamente a controllare qua ok e voilà hanno inficiato qualsiasi tipo di possibilità di movimento che ci permettesse appunto di dire ok attenzione perché in realtà non si scenderà si potrà continuare solo a salire e quindi chi utilizza l'analisi evoluta ha capito rapidamente la cosa perché l'ho segnalata su tutti gli altri mercati e quindi noi abbiamo continuato a fare le nostre cose senza nessun problema chi invece ha provato ad anticipare uno short aiuto ok purtroppo fatti suoi terza cosa importante da guardare lato indice possiamo essere 8 più 1 piuttosto che alla prima candela di ciclo terzo ciclo settimanale lo sapremo ovviamente in base al tempo che rimarremo sopra questo minimo 5560,95 terza cosa importante ti do dei livelli da andare a controllare 1 questa è una resistenza dinamica leggermente sotto questo massimo assoluto 2 questi sono due supporti invece se dovessimo bucarli inizieremo a far partire un nuovo mensile inverso e ovviamente sai che cosa sai dalle basi che fatto un primo semestrale qui è partito il secondo semestrale con una chiusura molto forte di secondo mensile e primo trimestrale e da qui con per ora 15 giorni all'attivo può essere iniziato il secondo trimestrale ha già tutto per poter partire adesso bisogna vedere se inizia ad avere voglia di scendere visto che comunque è andato sopra questo massimo con prepotenza per 15 giorni quindi questi sono livelli volumetrici dinamici peraltro che ti possono aiutare molto a comprendere che cosa può succedere qui si può poi mettere un allarme e dire ok sopra questo massimo può essere in chiusura ancora il terzo settimanale inverso può spingere il terzo ciclo settimanale lato indice e sotto questo minimo però metto quello che è l'allarme più importante sotto i 5560,95 5560,95 per poter fare che cosa per poter vedere se ho un t vincolato a ribasso e quindi potenziale discesa e accompagnamento appunto di discesa oppure no ok direi che ti ha dato tante informazioni interessanti il resto della centratura 15 minuti la farò ovviamente eventualmente per il gruppo premio non si avrò tempo perché sono entrato nella terza settimana di vacanza appunto qui a Marsalam e ho ancora un po' di vacanze appunto da fare prima di tornare in Italia se metterai un bel like sarà come una pacca sulla spalla per tutto questo lavoro fatto e per tutte le informazioni preziose che ti ho dato e che puoi ampliare se studi appunto l'analisi avvoluta buona giornata e ancora buona vacanza grazie a tutti